Bisogna essere sempre garantisti, a proposito la dottoressa Castriota ha deciso lei di fare come giudice preliminare il sequestro, quindi c'è una reazione dello Stato che noi vorremmo vedere poi sollecita nel percorso, perché io vi ricordo e voglio farvi vedere quello che ho fatto, anche a Roma c'è una casa dei famosi Casa Monica che da anni, dal 2003, dovrebbe essere abbattuta, ma cosa hanno fatto in via Tuscolana, cosa hanno fatto i Casamoni? Hanno fatto domanda, perché hanno detto, beh facciamo il condono, chiediamo, questa pratica non si capisce dove sia finita, hanno fatto la domanda, a Roma ce ne sono 100 credo 70 mila in evase, c'è stata una marea di domande, siamo la capitale d'Italia, e io ho ricevuto una letterina di Luca Montuori, assessore all'urbanistica di Roma, che non vi leggo per così, non mi sembra il caso di leggere, ecco io assessore, per carità, a me piacerebbe confrontarmi con lei, prendo atto che all'ufficio Condoni sono tutti che lavorano con passione, con fatica, con generosità, pensi se non lavorassero così cosa sarebbe Roma? 170 mila pratiche, guardate io ci sono andato, guardiamo queste immagini, queste sono le telecamere da fuori, da lontano, ma addosso avevo una telecamera nascosta, e mi sono presentato ovviamente, perché avevo fatto una promessa, avevo detto guardate, siccome sta pratica in evasa ormai da quasi ormai vent'anni, voglio andare a vedere che succede, ho fatto la domanda, ho detto sono Massimo Giletti, dopo di che possiamo pure uscire, sono salito, all'ufficio mi hanno fatto aspettare fuori, c'era l'ufficio, l'ha detto l'ufficio stampa, dell'assessore Montuori, ho avuto un colloquio molto lungo, ho parlato anche con una donna molto in gamba, Cinzia Esposito, che ha fatto una storia fortissima con Sabella Ostia, quindi ho grande rispetto per questa donna, capisco meno le risposte un po' vaghe, un po' così, un po' dicendo, ecco assessore, io mi aspettavo da lei la stessa cosa che ha fatto il prefetto di Roma, chiamarmi e dire complimenti, sta facendo una grande battaglia, lei mi ha scritto la letterina di Babbo Natale, ma no, ma tutto bene, ma no, lei non può chiedere la privacy, c'è il diritto alla privacy, noi vogliamo sapere dove è finita questa pratica, perché sono anni, ormai quasi vent'anni, che non si fa la cosa più normale che ci sia, abbattere quella casa, dopo la pubblicità.